Signori, ci legge un atto. C'è un chiamo di signor Perrone. Un agente della polizia penitenziaria e anche un paziente che si era dato alla fuga, l'aveva utilizzata durante la fuga. Io vorrei solamente esprimere due parole di ringraziamento innanzitutto alla propria della Repubblica perché dal primo momento ha creduto fortemente nell'importanza che ci fosse questo. Alla direzione, alla dottoressa Russo, alla dottoressa Andrianello, al dottore Renna, che sono i miei figli di carattere che si avanza di mezzi tecnici.